chi è Kefren Turam? Cettrocampista finito nel mirino della squadra mercato dell'Inter. Amiche e amici interisti e amiche amici di Passione Inter benvenuti in questo nuovo episodio dove cercheremo di analizzare in modo approfondito il profilo di Turam giocatore molto chiacchierato nelle ultime settimane in chiave mercato Inter e voce riconfermata ancora una volta da calciomercato punto com nella giornata di ieri sia chiaro non è iniziata alcun tipo di trattativo ufficiale ma si tratta comunque di un giocatore a cui l'Inter fa molta attenzione partirei quindi subito con l'identikit di Kefren Turam chi è e capire eh meglio le origini di questo giocatore mostrandovi subito la schermata di Transfermarkt eh Kefren Turam vediamo che un eh duemila uno ha eh compiuto ventun anni appena un mese fa il ventisei lo scorso ventisei marzo è nato a Reggio Emilia questo perché eh Kefren Turam è figlio della leggenda eh Lilian Turam ed è fratello minore di Marcos Turam altro nome di mercato che come sappiamo piace tanto all'Inter fin da giovanissimo Kefren dimostra ottime capacità per il gioco del pallone assaggia il campo all'età di cinque sei anni con la maia del Barcellona questo perché il padre Lilian Turam giocava con i Blaugrana al al tempo e per poi percorrere tutte le trafile giovanili al famosissimo centra centro federale del calcio francese Claire Fontaine ehm l'ultimo passo della sua crescita viene al Monaco dove un altro mostro sacro del del calcio come eh Terrieri lo fa esordire in Champions League ad appena diciassette anni contro l'Atletico Madrid nel duemila e diciannove poi qualche mese dopo l'esordio a livello europeo il Nizza decide di prelevare lo a titolo gratuito facendo un grandissimo colpo di mercato oggi infatti dopo tre stagioni al Nizza in cui il suo minutaggio è eh andato sempre di più a crescere eh vale ben quattordici milioni di euro sul mercato almeno per Transfer Markt a soli ventun anni quindi Crefenturam ha appoggiato a vantare settantacinque presenze in Ligan tre in Europa League e due in Champions League il debutto in nazionale maggiore francese invece deve ancora arrivare ma lo scorso settembre Turam ha finalmente esordito in under ventuno francese e non ci sarebbe da sorprendersi se il GT eh Deschamps ehm dovesse ecco chiamarlo in una delle prossime convocazioni passando però alle caratteristiche di questo giocatore che è molto interessante eh Turam è un centrocampista dotato di una grandissima struttura fisica visto che è alto ben un metro e novantuno e struttura fisica che gli permette ovviamente di essere abbastanza competitivo nel duello aereo eh ne vince circa eh una partita in media e di giocare spesso come mediano in un centrocampo a due ehm vi mostro subito light map che appunto evidenzia come eh la posizione occupata prevalentemente nel campo da parte di di eh di Kefren Turam e vediamo che è una posizione centrale vediamo però che c'è un rosso intenso anche più o meno nella zona della tre quarti avversaria questo perché una delle caratteristiche principali di Turam è quello di rompere le linee di gioco Turam è infatti tra i migliori d'Europa nell'avanzare verso la tre quarti avversaria lo fa con successo pensate almeno tre volte in media partita il suo allenatore al Nizza Galtier lo definisce come un centrocampista moderno eh molto professionali ma solo in tanti a parlare bene lui eh per Manu Piret che sarebbe il direttore l'attuale direttore del centro di formazione al Nizza Turam è un giovane di una formazione esemplare eccezionale nel rispetto degli orari eh di lavoro e delle persone qualunque esse siano abbiamo capito quindi che dal punto di vista umano eh sembrerebbe non mancare nulla al centrocampista francese e inoltre dal punto di vista fisico è un giocatore integro nel senso che non ha mai subito infortuni rilevanti in carriera saltando addirittura zero partite nella sua giovane carriera per per infortunio immaginare però Creffin Turam all'Inter non è immediato eh confrontandolo abbiamo fatto una grande comparazione molto approfondita di tanti dati con gli attuali centrocampisti nerazzurri ed è molto difficile eh trovare delle similitudini con Brozovic, Varello, Ceranoglu. Eh per esempio abbiamo comparato i migliori dati di Brozovic eh in passaggi di possesso e difesa con quelli di Turam nelle stesse voci che abbiamo analizzato per il croato come per esempio passaggi tentati percentuali di passaggi completati passaggi ricevuti e recuperi palla insomma perché sappiamo che eh una delle qualità eh migliori di Brozovic è quella della gestione del pallone. Vi mostro subito quindi il grafico di comparazione tra Brozovic e Turam e eh i vari numeri i vari numeri che troviamo nei grafici corrispondono alla percentuale di centrocampisti nei top cinque campionati europei che registrano dati peggiori. Questo vuol dire che più il numero è alto eh più vuol dire che quel giocatore in quel determinato dato è bravo e sopra la media. E anche al primo sguardo vediamo come i grafici eh di Brozovic e Turam siano molto diverse e diversi, abbiano forme eh decisamente diverse eh per esempio nei passaggi tentati o nei passaggi progressivi in avanti vediamo come eh Brozovic registra un dato rispettivamente di novantasette novantotto mentre Turam soltanto di sessantatré e trentotto. Di conseguenza abbiamo deciso di comparare il profilo del francese con le top statistiche eh di Nicolo Barella soprattutto per quello che riguarda passaggi e difesa. La situazione qui come vediamo è leggermente diversa perché i grafici si eh si assomigliano leggermente di più eh gli expect d'assist per esempio per quanto riguarda i passaggi e le avanzate in avanti bene Barella e Turam registrano dati molto simili ma giocando come mediano il francese non è assolutamente presente in area avversaria quanto il numero ventitrener azzurro vediamo infatti che i tocchi eh nel dato dei tocchi nell'area avversaria di di Barella registra un dato di novanta mentre quello di che è Fenturam soltanto eh sessantatré eh o meglio sessantanove. Ne viene fuori quindi che che Fenturam è sicuramente un profilo molto interessante dotato di caratteristiche che però in questo momento nel centrocampo dell'Inter nessuno ha. Insomma sarebbe un tipo di giocatore differente rispetto ai vari Barella, Brozovic e Celanoglu. Ciò che dobbiamo portare a casa secondo me da questa analisi è che in ogni caso Fenturam è un buonissimo giocatore e che l'Inter probabilmente cercherà di acquistare un giovane dalle belle speranze a centrocampo. Sappiamo infatti amici amici di Passione Inter che abbiamo parlato tanto di frattesi, stiamo parlando adesso di Kefren Fenturam e non penso sia una casualità il fatto che eh siano emersi questi 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 tipi di nomi a centrocampo per il prossimo mercato. Anche perché sappiamo che il il diciamo il reparto del centrocampo è un reparto quello dell'Inter che vivrà diverse rivoluzioni visto che molto probabilmente Vidal e Vecino saluteranno e ci sarà da capire cosa si dovrà fare con Roberto Gagliardini e Stefano Sensi che molto probabilmente rientrerà eh all'Inter e o sarà ceduto o verrà girato nuovamente in prestito oppure si potrebbe aprire addirittura uno scenario come vice Brauzovic anche perché abbiamo visto che Kefren Fenturam non ne sarebbe totalmente in grado o meglio sarebbe un mediano piuttosto di rottura e di avanzamento più che di costruzione. Quindi io ho finito qui la mia analisi sono molto curioso di sapere cosa pensate di Kefren Fenturam sono sempre curioso come sapete di visionare diversi profili quindi se voi credete che ci sia un profilo giovane che possa fare al caso dell'Inter ecco scrivetemelo nei commenti perché sono molto curioso di di nomi in giro per l'Europa nei commenti scrivetemi sempre le emoji facciamo della Francia visto che c'è un giocattacampista francese Fenturam se mi avete seguito fin qui vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere nessun tipo di video per non perdervi le dirette che facciamo ogni giorno alle 19.30 e se vi piacciono questi tipi di contenuti che facciamo come gli approfondimenti vi invito a premere il tasto su abbonati che trovate a fianco a quello del degli iscriviti oppure di abbonarvi su passione inter.club per entrare nella nostra grande community interista dove ogni giorno discutiamo in modo civile e rispettoso ma sempre con un approfondimento e in modo interessante di tutti i temi dell'inter che quali possono essere tattici e non discutiamo anche dei vari profili accostati all'inter quindi vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito fino a questo punto e vi ricordo dell'appuntamento giornaliero stasera alle 19.30 dove parleremo di Turam ma anche di tant'altro. Sempre Forza Inter!